L'Euronauta di febbraio vi racconta questa sessione plenaria, la prima, perché questo è un mese nel quale abbiamo due volte una settimana di seduta plenaria a Strasburgo, visto che ci si avvicina alla fine della legislatura, ci sono tante cose da fare, tante questioni da votare prima della fine del mandato. In questa prima sessione è arrivato Regiorgio, il nostro rispettato Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Abbiamo avuto con lui tre incontri, il suo discorso in plenaria, una commemorazione dei 30 anni del trattato di Costituzione europea che fu ridatto e votato poi dal Parlamento da Altiero Spinelli 30 anni fa e che poi non è stato attuato naturalmente, e poi un incontro con un bel dibattito nel quale sono intervenuto anch'io come capodelegazione dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali a nome dei deputati italiani del nostro gruppo. Poi Napolitano ci ha messo veramente tanta energia, ha la sua età straordinaria, ha parlato con una bella chiarezza, portando molto bene la voce nel suo bell'italiano con molta logica e affermando le ragioni dell'Europa. Mi piacerebbe sentire qualche giovane ogni tanto con la sua stessa convinzione e lucidità. Ha criticato la gestione della politica economica, ha parlato della burocrazia, ha parlato delle magagne di questa Europa, ma insomma ha detto qui o si va avanti o altrimenti non abbiamo futuro. Io non posso che concordare con Napolitano. Il fatto che nel 2014 noi stiamo ancora a ragionare se vogliamo più Europa o meno Europa, quando abbiamo un miliardo e mezzo di cinesi tutti insieme, un miliardo e mezzo di indiani con un altro blocco economico. Il loro vantaggio, guardate bene, non è il fatto che abbiano una mano d'opera che costa meno, il loro vantaggio è che sono così tanti, grandissimi paesi e una politica economica, una diplomazia, una politica fiscale, una politica dell'ambiente. Noi siamo 500 milioni, 28 governi piccoli o medi, 28 ministri dei esteri, 28 politiche economiche, 28 mercati diversi del lavoro, eccetera, eccetera. Così non si va avanti nel mondo. Dall'altra parte abbiamo gli Stati Uniti, gli Stati Uniti che sono capaci di spiare, di controllare passo passo non il telefonino di Niccolò Rinaldi, ma quello, anche questo naturalmente, ma quello di Angelica Merkel. E noi continuiamo a essere dei piccoli nani. Napolitano queste cose le ha spiegate molto bene, ha detto una cosa giusta, ha detto che l'unica cosa che è rimasta maledettamente nazionale in Europa è la politica. Tutto il resto ormai, dalla cultura al lavoro a naturalmente l'imprenditoria, i mercati, le relazioni familiali, le relazioni di amicizia si sono interconnessi, intrecciati e invece la cultura, la politica è rimasta basata su visioni, abitudini, tradizioni tutte nazionali. Io però a Napolitano ho ricordato che presto a luglio l'Italia assume la presidenza europea per sei mesi e noi ci presentiamo con poca credibilità in Europa. Ci presentiamo ad esempio con un primato di infrazioni aperte dalla Commissione europea nei confronti del nostro paese. Ne abbiamo 104, 104 procedure per mancata o cattiva applicazione delle norme europee. Sono norme, sia ben chiaro, tutte di progresso, norme che ad esempio vogliono evitare la discriminazione degli insegnanti precari rispetto a quelli assunti, come abbiamo oggi questa discriminazione nel nostro paese, rispetto a quelli assunti con un contratto a tempo indeterminato e via dicendo. Oltre una ventina di queste procedure di infrazione sono su questioni ambientali. Poi il cattivo o non uso dei fondi europei, ne parlo spesso, 2007-2013, i dati del 31 dicembre scorso ci dicono che siamo riusciti a spendere alla fine il 51,4% dei fondi a disposizione. Adesso abbiamo un piccolo tempo supplementare ma non sarà facile recuperare la grande quantità di questi fondi, praticamente la metà, che sono rimasti inutilizzati. E poi il fatto che siamo comunque un paese che almeno su tre livelli siamo fuori dalla media europea, evasione, corruzione, costo della politica. L'evasione, insomma, lo conosciamo, la corruzione, la Commissione ci ha appena bacchettato richiamando un senso di necessità di riforma nel nostro paese perché siamo proprio con questi 60 miliardi, questo è il calcolo, poi bisogna vedere come è stato fatto, di costo della corruzione nel nostro paese. E poi quello che paghiamo in modo esorbitante per le istituzioni. Non ho avuto il coraggio di dirlo a Napolitano perché sembrava forse provocatorio, ci sono già stati i leghisti che hanno fatto la loro gazzarra, ma lo stesso Quirinale. Pensate, lo stesso Quirinale ha 1.700 dipendenti, la Casa Bianca ne ha 450. E allora se noi non riusciamo ad affermare che l'Europa è stato di diritto ed è un diritto di progresso e quindi applicazioni di norme che vanno veramente a convenienza di tutti noi cittadini e se non riusciamo ad affermare che l'Europa è qualcosa di utile per me, per il giovane, per l'imprenditore, per la famiglia, anche utilizzando i fondi che ci vengono messi a disposizione e non li utilizziamo, l'Europa rimarrà sempre delle belle parole, un grande sentimento, ma insomma poca sostanza. E sotto questo profilo allora anch'io divento euroscettico, anch'io comincio a dire che questa Europa, questa Europa di carta e di poca sostanza non mi piace, ma la risposta non può essere che maggiore Europa. Certamente non avere la tentazione delle piccole sovranità di questi paesini, come ormai siamo tutti rispetto alle grandi potenze del mondo, divise e frammentate. Poi in questa sessione abbiamo trattato anche altre cose. Innanzitutto una buona notizia per chi prende l'aereo, la direttiva sui diritti del passeggero è stata approvata e ci saranno una serie di vantaggi, ad esempio quando si prende un biglietto andato e ritorno di un aereo non si usa la tratta di andata, se ci si presenta al ritorno oggi ci hanno già cancellato e il biglietto è da buttare via. Non sarà più così, così come una compagnia aerea non potrà impedire l'imbarco se oltre a un bagaglio a mano sia anche un ombrello oppure un cappotto o un computer. Devono essere considerati fuori dall'extra rispetto al bagaglio a mano. E altre cose, piccole cose, ma insomma per chi ha abitudine di prendere l'aereo sa che sono vantaggi non da poco. Abbiamo poi fatto una piccola manifestazione con un lunghissimo tricolore di buttati italiani di tutti i partiti, o quasi tutti, mi sembra di non aver visto leghisti ma posso sbagliare, per sostenere le ragioni di una internazionalizzazione della crisi dei Marò tra Italia e India. Io del resto sono sempre stato convinto che questa è una di quelle cose che l'Italia dovrebbe dire all'Unione Europea Occupa TNT, questi nostri Marò erano in missione, antipirateria, missione tra l'altro delle Nazioni Unite, le conseguenze di una giurisprudenza indiana si applicheranno a tanti altri casi, bene che te ne occupi te. E poi per finire, tra le tante altre cose di questa ricca sessione, abbiamo avuto un incontro con chi si occupa di cucina macrobiotica pianesiana. L'Italia è un'eccellenza in questo campo, in particolare le Marche, che è una delle regioni che ora presento al Parlamento Europeo e che ha il più alto numero di centri macrobiotici, di ristoranti, di punti microbiotici, come spesso si chiamano, procapite rispetto a tutto il resto d'Europa. E la cucina macrobiotica pianesiana, perché poi ce ne sono varie, magari meno pure, ha dimostrato delle cose straordinarie, come una dieta corretta e una produzione agricola che sia integrata e che sia locale, può innanzitutto costare fino al 90% in meno rispetto a una produzione agricola classica, canonica, che fa naturalmente utilizzo di sistemi logistici, di trasporto, di distribuzione e poi di produzione classici. E poi di avere degli effetti terapeutici straordinari. Una dieta pianesiana con 3 euro al giorno cura il diabete rispetto ai miliardi che altrimenti vengono spesi dai sistemi di sanità pubblica in tutta Europa. E con loro ci siamo confrontati in un bel pomeriggio insieme a Cristiana Muscardini. Napolitano da una parte, i nostri cittadini, i nostri esperti, scienziati, attivisti del mondo della cucina macrobiotica pianesiana. Sono due aspetti, le grandi istituzioni, la società civile che si devono incontrare in un posto come il Parlamento europeo. E quindi è stata una bella sessione.